All'appartamento in città si preferisce oggi la casa in campagna, anche da ristrutturare, magari con terreno e una stanza in più per l'ufficio, da cui lavorare da remoto. La pandemia ha mutato le esigenze abitative delle famiglie e il 2022, anche a Pistoia, è stato l'anno in cui si sono consolidati questi cambiamenti. Il 2022 si chiude con un mercato molto effervescente. Ci sono state moltissime richieste per immobili anche fuori dal centro e anche in paesini un pochino limitrofi alla città, perché si è riscoperto un po' il bisogno di spazi esterni, del verde, e quindi ci sono molte richieste per immobili con giardino, ma addirittura anche terreno, perché si sta tornando anche alla coltivazione del terreno, avere il proprio orto, il chilometro zero. Abbiamo avuto anche delle richieste per terreni ad olivo. Per quanto riguarda anche la metratura degli immobili, in seguito proprio al fatto che tante aziende si sono abituate allo smart working, abbiamo notato una crescita di metri quadri richiesti e la stanza in più per l'ufficio in casa ormai la richiedono tutti. Un 2022 dinamico per quanto riguarda il mercato immobiliare, che ha indotto i titolari dell'agenzia Il Nido di Pistoia a condividere il successo con i propri collaboratori. È stato un anno veramente straordinario, ricco di soddisfazioni e di risultati incredibili. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso per il terzo anno consecutivo di condividere questi risultati con i nostri collaboratori, versando un extra di oltre 2000 euro ciascuno. Qui al Nido siamo una famiglia e il nostro obiettivo, il nostro desiderio è proprio quello di cercare nuove persone che come noi vogliono crescere e vogliono condividere con gli altri il benessere.